La cosa che devi migliorare? Punizioni. Ah, punizioni non bene. Ah, non è... Ah, scusami, non esiste. Tre aggettivi. Tranquillo, scherzoso e umile. Sicuramente volevo lavorare con i miei genitori, in negozio dei miei genitori con Oro. Sì, ho fatto quando ho 12, 13 anni, due anni, questo lavoro. Dopo ho ancora iniziato a giocare a calcio e adesso ho gioco a calcio. Praticamente 20 anni fa, con i miei amici, in una squadra molto vicina a casa mia, si chiama Ossogoo-Criva-Palanca. Tutti iniziamo insieme per giocare a calcio, alleniamo. Dopo 12, 13 anni ho giocato in stessa squadra, dove ho iniziato a giocare a calcio Ossogoo-Criva-Palanca. Dopo andare in una squadra, si chiama Macedonia-Giorce-Petro, Scoplie. Ho vinto il campionato con questa squadra, prima squadra, quando ho 16 anni. Ho vinto il campionato e ho vinto la Coppa di Macedonia. Dopo andare in l'estero, ho giocato due anni in Olanda, dopo un anno in Ungaria, un anno e mezzo in Serbia, due anni in Giappone, e adesso un anno e mezzo in Italia. Sicuramente non è facile, però secondo me questa è una buona esperienza per me. Anche tu sei più vecchio di i tuoi anni, secondo me. È buono quando sei separato, prima di i tuoi genitori. Vorrei rubare sicuramente tranquillità di Lazeri. Il mio giocatore per l'inferimento è David Beckham. Il gol più bello della storia del calcio c'è due, secondo me. Il primo è Beckham, fatto contro Grecia, nel 2001, per la qualificazione in England, poi per il mondiale in Giappone e Sud-Korea, nel 2002. Due anni fa Sergio Ramos, in ultimo minuto Champions finale. Quando ho giocato la prima volta in San Nicola, mi ricordo molto bene contro Crotone. Ho giocato con febbre quasi 39. Quando ho uscito in campo, quando ho sentito come cantano i nostri tifosi, è veramente un'emozione speciale. Questo stadio si chiama San Nicola, è per me un onore, e dico così, un onore, sì. Leggere libri, biografico. L'attore preferito è Russell Crowe, il film più bello nella storia dei film, e sicuramente La vita è bella. Roberto Benini, questo è il mio film favorito. C'è un piatto preferito? Sì, c'è. Quale? Si chiama Orecchie al Rabbe. Mi piace tanto. O mangio quasi ogni giorno, per pranzo. Sì. Ma hai imparato a cucinarmi, o mangi fuori? No, 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 fuori, fuori. Perché è difficile per cucinare. Magari il pesto genovese. Mi piace la cucina italiana molto. Anche quando vivere in Giappone, c'è un ristorante, si chiama San Marino, italiano, sempre mangia cucina italiana. E mi piace tanto. Calcio in Giappone, veramente molto bene, stadio sempre pieno, 50, 60 mila. Vive calcio come un hobby. Non è come qua in Italia, anche in Macedonia. Non è con troppe emozioni. Per esempio, noi abbiamo perso otto partite in serie. Loro, dopo la partita, sempre dà applausi. Però a me piace un po' la pressione, a me piace un po' la caldezza, come così qua. Specialmente a Bari. Tutti insieme innamorati, Bari nel nostro cuore. Tutti insieme vincevamo contro Trapani. A nominare uno mio grande amico, una persona veramente sempre positiva, è Giuseppe De Luca. Grazie mille. Ciao.